Approfittiamo di questa succulenta notizia, signori, per annunciare che Andrea Iannone assolutamente tornerà a far quel che sa fare meglio, ovvero a correre. Perché le due ruote sono il suo primo amore, il primo amore sappiamo che non si scorda mai, quindi MotoGP o Superbike che sia, non si sa ancora, ma comunque sempre di corse in moto parliamo. Ebbene, l'unica cosa certa è la squalifica per doping che terminerà nel 2024, quindi non manca tantissimo, e che qualche giorno fa il campione di motociclismo si trovava proprio in pista a Misano Adriatico al Marco Simoncelli World Circuit, in sella ad una Ducati Panigale V4, proprio per essere precesi sul modello. A fare il tifo per lui c'era Elodie che lo starebbe spingendo a tornare a gareggiare dopo qualche stagione di grande sofferenza nel stare fuori, nel non poter fare quello che più gli piace. L'arrivo della cantante nella sua vita gli ha ridato il sorriso e la voglia di tornare a combattere e dimostrare di poter essere ancora il numero uno. Una spinta forte, come detto, è arrivata da lei. E quasi per ringraziarla Andrea gli ha voluto fare un regalo, una sorpresa. A dire il vero la sorpresa, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, è per festeggiare i primi sette mesi d'amore. Un amore nato l'estate scorsa e che è subito andato veloce. I due vivono praticamente insieme, nella casa di lui, a Lugano, nella Svizzera italiana. Ma qual è stata la sorpresa? Una macchina elettrica, una piccola Smart 4-4. Una sorpresa che Elodie sembra aver molto gradito.